Ti sei mai chiesto cosa succede quando il divino tocca il mondo degli uomini? Cosa proveresti se ti trovassi faccia a faccia con un messaggio celestiale? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Meggiugorie, un piccolo villaggio situato nell'entroterra della Bosnia e Derzegovina, è da decenni un luogo di pellegrinaggio per migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo. Immerso tra verdi colline e antichi sentieri, questo luogo ha sempre emanato un'aura di sacralità e mistero. Ma non è solo la bellezza naturale che attrae i pellegrini, sono le storie di apparizioni mariane che hanno reso Meggiugorie un punto di riferimento spirituale per molti. Nel cuore di questa comunità vive Ivan, un uomo di mezza età con occhi penetranti e un sorriso calmo. Da ragazzo, Ivan era come tutti gli altri bambini del villaggio, giocava nei campi e aiutava la sua famiglia nei lavori agricoli. Ma tutto cambiò una sera d'estate, quando, secondo le voci del villaggio, ebbe la sua prima visione della Madonna. Da quel momento, Ivan divenne una figura centrale nella comunità, non solo come testimone delle apparizioni, ma anche come guida spirituale per molti che cercavano risposte. La storia di Ivan è intrecciata con quella di Meggiugorie in un legame indissolubile. Mentre il villaggio ha visto un afflusso crescente di visitatori, desiderosi di sperimentare la presenza divina e di trovare la pace interiore, Ivan è rimasto un pilastro di fede e speranza. La sua umiltà e la sua profonda connessione con il divino hanno ispirato molti a cercare una connessione più profonda con la propria spiritualità. Ma cosa ha realmente visto Ivan quella fatidica sera? E come ha cambiato la sua vita e quella della comunità di Meggiugorie? Questo articolo si propone di esplorare la rivelazione di Ivan e di comprendere l'importanza di tale evento non solo per lui, ma per l'intero mondo cristiano. Era un pomeriggio di fine agosto, e l'aria a Meggiugorie era densa e calda, con solo una leggera brezza che muoveva le foglie degli alberi. Il villaggio era in fermento per la festa annuale in onore della Madonna, un evento che vedeva la partecipazione non solo dei locali, ma anche di pellegrini provenienti da paesi vicini e lontani. Le strade erano adornate con fiori e candele, e un senso di aspettativa pervadeva l'aria. Ivan, all'epoca un giovane di appena vent'anni, si era allontanato dalla folla per riflettere in solitudine. Aveva scelto un piccolo sentiero che conduceva alla Collina delle Apparizioni, un luogo sacro dove, secondo le leggende locali, la Madonna era. Apparsa in passato a bambini del villaggio. Mentre camminava, i raggi del tramonto coloravano il cielo di sfumature arancioni e rosse, creando un'atmosfera quasi sognante. Mentre si avvicinava alla cima della collina, Ivan sentì un fremito lungo la schiena. L'aria intorno a lui divenne improvvisamente più fresca e un silenzio profondo avvolse tutto. Poi, davanti a lui, apparve una luce brillante, così intensa da farlo chiudere gli occhi per un momento. Quando li riaprì, vide una figura avvolta in un manto azzurro, con un volto sereno e occhi pieni di amore. La Madonna, perché Ivan non aveva dubbi su chi fosse, lo guardava con un'espressione di dolcezza e compassione. Nonostante fosse immerso in una luce abbagliante, Ivan non sentiva paura, ma piuttosto un senso di pace e accettazione. La Madonna si avvicinò a lui, e anche se le sue labbra non si muovevano, Ivan sentì distintamente la sua voce nella sua mente. La visione durò solo pochi minuti, ma per Ivan sembrò un'eternità. Quando la luce si affievolì e la figura scomparve, Ivan rimase lì, in ginocchio, con le lacrime agli occhi e il cuore colmo di emozioni. Sapeva che quello che aveva appena vissuto avrebbe cambiato la sua vita per sempre. La voce della Madonna, pur non essendo udita attraverso orecchie terrene, risuonava con chiarezza nella mente di Ivan. Le sue parole erano dolci e rassicuranti, ma portavano con sé un peso di urgenza. Mio caro figlio, iniziò, il mondo sta attraversando tempi di grande tumulto e confusione. L'umanità si è allontanata dalla luce della fede, e molti cuori sono diventati freddi e indifferenti. Ma c'è ancora speranza. Desidero che tu porti un messaggio di amore e riconciliazione al tuo popolo. Di loro di ritornare alle radici della loro fede, di pregare con sincerità e di amarsi gli uni gli altri come io amo ciascuno di voi. La Madonna sottolineò l'importanza della preghiera, del digiuno e della penitenza come mezzi per avvicinarsi a Dio e purificare l'anima. Non temere, Ivan, concluse, sarò sempre con te, guidando i tuoi passi e confortando il tuo cuore. Quando Ivan tornò al villaggio, il suo aspetto trasfigurato e gli occhi ancora lucidi di lacrime attirarono immediatamente l'attenzione dei presenti. Raccolse intorno a sé un piccolo gruppo di persone e condivise con loro l'esperienza straordinaria che aveva appena vissuto. La notizia si diffuse rapidamente, e presto una folla si radunò intorno a lui, ascoltando con attenzione ogni sua parola. Le reazioni furono miste. Molti erano profondamente commossi e sentivano nel loro cuore che il messaggio di Ivan era autentico. Altri erano scettici, sospettando che potesse essere un trucco o un'illusione. Tuttavia, non si poteva negare l'effetto che la storia di Ivan aveva sulla comunità. Nei giorni e nelle settimane successive, la chiesa del villaggio fu più affollata del solito, con molte persone che ritornavano alla preghiera e al sacramento della confessione. Gruppi di preghiera si formarono in diverse case, e molte famiglie iniziarono a recitare il rosario insieme ogni sera. La storia di Ivan divenne un argomento di discussione in ogni angolo del villaggio, e presto anche i media locali e internazionali iniziarono a interessarsi all'evento. Mezzugorlie, già un luogo di pellegrinaggio, vide un afflusso ancora maggiore di visitatori, tutti desiderosi di saperne di più sulla rivelazione di Ivan e sul messaggio della Madonna. La rivelazione di Ivan non passò inosservata nel panorama religioso globale. Teologi, storici della chiesa e leader religiosi iniziarono a esaminare il messaggio e la visione alla luce della dottrina cristiana. Molti paragonarono l'apparizione di Mezzugorlie ad altre apparizioni mariane famose, come quelle di Lourdes e Fatima. Si discusse intensamente sul significato del messaggio della Madonna, in particolare sulla sua enfasi sulla preghiera, il digiuno e la penitenza. Alcuni teologi sottolinearono come il messaggio di Mezzugorlie fosse un richiamo alla conversione e alla rinnovata fede in un'epoca di crescente secolarizzazione. Altri, invece, erano più cauti, sottolineando la necessità di ulteriori indagini e di un discernimento spirituale approfondito. La chiesa, attraverso il Vaticano, decise di avviare un'indagine ufficiale sull'apparizione. Una commissione composta da teologi, psicologi e esperti di fenomeni mistici fu incaricata di esaminare la veridicità e la natura del messaggio di Ivan. Nel frattempo, a Mezzugorlie iniziarono a circolare storie di fenomeni miracolosi associati alla visione di Ivan. Alcuni pellegrini riferirono di aver visto il sole danzare nel cielo, un fenomeno simile a quello descritto a Fatima. Altri parlavano di guarigioni inspiegabili, malati terminali che recuperavano la salute, persone con disabilità che iniziavano a camminare e ciechi che riacquistavano la vista dopo aver pregato sulla collina delle apparizioni. Una fonte d'acqua, che sgorgava vicino al luogo dell'apparizione, divenne famosa per le sue presunte proprietà curative. Molti pellegrini, dopo aver bevuto o lavato le loro ferite con quell'acqua, riferirono di aver sperimentato guarigioni e benedizioni. Questi racconti di miracoli rafforzarono la fede di molti nella veridicità del messaggio di Ivan. Tuttavia, come sempre accade in questi casi, c'erano anche molti scettici che mettevano in dubbio la natura soprannaturale di questi fenomeni. Nonostante le controversie, Meggiugorie continuò ad attirare un numero sempre maggiore di pellegrini, tutti alla ricerca di un tocco divino nella loro vita. Non passò molto tempo prima che la rivelazione di Ivan fosse messa sotto la lente d'ingrandimento della critica e dello scetticismo. Mentre molti abbracciavano con fervore la storia di Ivan e i miracoli associati, altri erano meno convinti. Alcuni giornalisti e investigatori indipendenti iniziarono a scavare più in profondità, cercando possibili spiegazioni alternative o incongruenze nella narrazione. Alcuni sostennero che la visione di Ivan potesse essere il risultato di uno stato alterato di coscienza, magari indotto dallo stress o da fattori ambientali. Altri suggerirono che potesse trattarsi di una mossa astuta per aumentare il turismo religioso a Meggiugorie, dato l'indubbio impatto economico che l'afflusso di pellegrini aveva avuto sulla regione. La Chiesa stessa rimase divisa. Mentre alcuni leader ecclesiastici supportavano apertamente Ivan e la sua rivelazione, altri esprimevano riserve, sottolineando la necessità di prudenza e discernimento. La commissione vaticana incaricata di indagare sull'apparizione procedeva con cautela, evitando di prendere posizioni affrettate. La storia di Ivan e la sua rivelazione a Meggiugorie rappresentano un capitolo affascinante e complesso nella tapezzeria delle esperienze mistiche cristiane. Al di là delle controversie e delle opinioni contrastanti, ciò che emerge con chiarezza è l'innegabile impatto che tale evento ha avuto su migliaia, se non milioni, di persone. Molti hanno trovato conforto, speranza e rinnovato senso di scopo grazie al messaggio della Madonna, mentre altri continuano a cercare risposte e chiarimenti. In un mondo in cui la fede è spesso messa alla prova e la spiritualità viene ricercata in molte forme diverse, la storia di Ivan ci ricorda l'importanza dell'apertura del cuore e della mente alle possibilità dell'invisibile. Grazie per averci seguito, alla prossima!